Sì, perché stavolta non ci abbiamo più un romano, un milanese, un palermità. Oggi è arrivato un presidente del consiglio di Firenze, un fiorentino doc. Firenze, la città che ha dato i Natali a Dante, Petrarca, Boccaccio. Gli ultimi anni chi era uscito da Firenze? Conti, Panariello e Pieraccioni. Tu capisci che l'aspettativa era alta. Grazie a tutti.